azione ora vai a casa da due minuti vai a casa pronti vai dora dora che succede non ti devi mettere qua perché sennò viene male dora che succede non voglio stare senza di lui che cosa devo fare mi manca rifare la miseria è perfetto dora che succede ma potremmo spostarla ma insusate che mercoledì ci abbiamo è lo stesso discorso 61 2 quarta fermi azione 53 3 terza azione partito 72 3 prima farem tutto uno prima grazie grazie grazie